Bene, bene, nulla, nulla ferisce il narcisista più di questo. Una volta che tu hai capito di avere a che fare con un narcisista, sia esso uomo sia essa donna, e tra virgolette vuoi vendicarti, tutte, spesso, le persone mi dicono, ah, voglio farli innamorare, poi lo lascio. Questa non è vendetta, questa è stupidità, perché intanto se nella tua testa c'è l'idea di far innamorare qualcuno che non si innamora, è un pensiero, diciamo se vogliamo, erroneo, errato. Ma dietro a questo pensiero c'è la speranza di riuscire a coinvolgersi o pertenersi. E questo è il grave errore, si ha a che fare con una persona tossica, sia narcisista o non narcisista, non è che siamo psicologi e facciamo le diagnosi, le cose, ma è una persona che si comporta secondo quello standard comportamentale. Quindi ti fa l'off-bomb, poi dopo sparisce, ricompare, ti squalifica, ti vuole manipolare, vuole farti fare questo, vuole fare quello. Allora, quando ti rendi conto che una persona ha queste caratteristiche, non devi stare a porti la domanda come far a conquistarlo, per poi lasciarlo, questa è l'idea perversa, è un'idea sbagliata, perché denota ancora il tuo coinvolgimento. Perché se per caso lui facesse finta, o lei ovviamente, di, come dire, essere innamorato, facendoti magari un po' di love-bombi, tu ci ricascheresti con due piedi dentro, ricadresti nelle sabbia mobili, mai ne sei uscita, perché se fai questi pensieri perché non ne sei uscita. Quindi, l'unico modo, per virgolette, per vendicarti, per ferire, tra virgolette, il narcisista, sai qual è? Essere felice con un'altra persona, oppure essere felice con te stessa, essere felice. Questo è quello a cui devi puntare, essere felice senza il narcisista. Quello che non tollera il narcisista è che una persona sia felice senza di lui, o senza di lei. E questo è quello che devi fare. Devi andartene, levarti dai maroni e cercare altrove la tua felicità. E come dice il proverbio, chi cerca trova. Però devi cercarla, devi essere convinto. Devi trovarti fonti di erogazioni emozionali positive, non fonti di erogazioni emozionali negative come il narcisista. Essere felice. Quella è veramente la chiave di volta, è veramente la cosa che l'offerisce di più. Perché tanto ti posso garantire che il narcisista ti spierà. Ti spia. Ti verrà a spiare nei social, verrà a spiarti dappertutto. Perché poi la seconda perversione di molte persone è dire Ah, ma io non lo sapevo, ma lui come fa a sapere che sono felice? Intanto non dovrebbe fotterti niente e non neanche pensarci. Però posso assicurarti che lo saprà. Lo saprà intanto indirettamente dal fatto che manco te lo filerai più di striscio. E quando ti farà il ritorno, si troverà questa risposta. Quindi questo, come dire, lo capirà. Perché poi i narcisisti torneranno, in qualche modo, prima o poi a farti il classico cucù, a cercarti, a mandarti magari un messaggio. L'alito del morto, del narcisista. È il primo, come dire, sussulto che fa, no? Venendoti a cercare attraverso magari un like, una cosa. Poi farà qualcosa di in più, ma in qualche modo si manifesterà. Ma a te non devi preoccuparti nel niente. Tu devi trovarti la tua felicità altrove, non considerarlo più. Per te deve essere una persona morta e sepolta. Deve essere una persona completamente, come dire, da non considerare. Senza rabbia, senza rancore. Perché rabbia e rancore legano le persone. Anche a livello karmico. La rabbia e il rancore uniscono. Non separano, non dividono. Quello che tu devi fare è semplicemente non avere né rabbia, né rancore, ovviamente neanche attaccamento. Ma indifferenza verso questa persona. Come se fosse una degli otto miliardi di persone con le quali non c'è a che fare. Certo, è entrato nella tua vita, ma magari deve, questo ingresso nella tua vita, averti insegnato qualcosa. Questa è l'unica cosa che ha un senso col narcisista. Se tu hai imparato qualcosa, se tu hai imparato a amare un po' di più te stessa, se tu hai imparato a volerti un po' più bene, se tu hai imparato a essere una persona migliore verso te stessa, beh, tutto sommato, diciamo, questo incontro, certo, ti aveva portato, però ti ha dato un insegnamento. E tutto quello che ci insegna qualcosa nella nostra vita non è mai sprecato. Però non dobbiamo accanirci, questo è l'errore. Non dobbiamo dire a tutti i costi, ah, ma io voglio qua, io voglio là. No, col narcisista non c'è da volere niente. Un narcisista è una persona tossica, una persona che non ti va bene, insomma, inutile stare lì a perdere tempo. Tanto vedrai che quando tu avrai trovato la tua felicità, ma chi cerca trova, devi cercare se vuoi trovare, allora ti posso garantire che non ti fotterà più niente di andare a pensare cosa farà, cosa penserà, cosa dirà, perché sarai già su un altro livello, sarai su un altro... avrei fatto un salto quantico, avrei trovato una nuova dimensione esistenziale, avrei trovato una nuova dimensione di vita senza questa persona. E sperimentare la felicità di vivere, sperimentare la gioia di vivere, è la vendetta migliore che c'è. E la cosa migliore che tu puoi fare, veramente, è fare un dono enorme a te stessa. E questo do a te stesso. Io parlo al femminile semplicemente, cioè parlo come il narcisista fosse maschile, ma come dire, mutatis mutandis, ci sono anche narcisiste femminili, e quindi questo è semplicemente per, come dire, per abitudine, no? Ma non pensiamo che ci siano soltanto narcisisti uomini, ci sono tranquillamente narcisiste donne. Ecco quindi, questa è veramente la, tra virgolette, migliore vendetta, ma in realtà è il miglior percorso di crescita personale che tu puoi fare. Imparare ad amare te stessa, imparare ad avere ragione di vivere, senza questa persona, senza essere dipendente da questa persona, ma attraverso altre persone, perché noi siamo esseri umani interagenti, diciamo così, siamo interdipendenti, ma dobbiamo noi trovare un'interdipendenza, cioè un modo di interagire con persone positive, che ci danno gioia, che amplificano il nostro benessere. Ce ne sono! Soltanto che se ovviamente noi rimaniamo invischiati in una relazione negativa, in una relazione sbagliata, con le persone sbagliate, non le vediamo, perché purtroppo la nostra mente è tutta proiettata lì, quindi dipende solo da te. Datti la responsabilità di evitare che qualcuno possa offendere la tua dignità, evitare che qualcuno possa oltraggiare la tua dignità, perché la tua dignità è importante e devi, come dire, devi pensare che la tua dignità è veramente un qualcosa di importante, non puoi permettere a nessuno, non puoi delegare a nessuno la tua felicità o la tua infelicità, perché nel momento in cui fai questa delega è come firmare, diciamo, una cambiana in bianca a un usuraio, questo è. Invece, se tu interagirai con altri, guarderai avanti, ogni volta che ti capita una persona sbagliata, apprendi un insegnamento e poi arriverà la persona giusta, arriveranno le persone giuste, perché poi nella vita, come dire, tutto è un inizio, tutto è una fine, non dobbiamo neanche pensare che, come dire, a pochi siano statici, ho trovato la persona della mia vita, andrà avanti sempre nel suo modo, no, perché un'altra caratteristica del mondo in cui viviamo è l'impermanenza, è il fatto che cambia continuamente, quindi, però dobbiamo mettere in atto dei cambiamenti che portino ad un miglioramento, quindi a eliminare quelli che sono i nostri veleni mentali, i nostri turbamenti, la nostra rabbia, i rancori, i sentimenti, gli attaccamenti, e piano piano noi possiamo sviluppare queste caratteristiche e allora ci sentiremo persone nuove, ci sentiremo persone che non hanno più bisogno del narcisista, credimi questa è la cosa che ferisce di più il narcisista, niente ferisce di più il narcisista di questo, dipende solo da te metterlo in pratica. Nel frattempo, iscritti al canale, attiva la campanella, così riceverai le notifiche di nuovi video, seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, seguimi su TikTok, e su tutti i miei canali YouTube, canali YouTube, tra cui anche il nuovissimo canale Sedura le donne con Massimo Terramasco, che serve agli uomini ovviamente per imparare a sedurre le donne, donne di classe, donne di qualità, manca le donne per imparare le tecniche di seduzione che gli uomini possono applicare su di loro. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao!